Lo sapevate che The Nightmare Before Christmas è stato girato usando delle miniature? In questo caso parliamo di puppets, ovvero dei pupazzi. Per farvi capire la difficoltà e la pazienza vi spiego in due parole di cosa si tratta. In pratica si usa una cinepresa che impressiona un fotogramma alla volta e per avere un secondo di girato occorrono 24 fotogrammi. Fotogramma, sposto un pochino il pupazzo. Fotogramma, sposto e così via. Vi rendete conto? Ci volle un'intera settimana di riprese per creare un minuto di film. E 100 persone lavorarono al film per tre anni. Per il film, pensate, sono stati costruiti 60 personaggi. Ognuno aveva tre copie. Ogni pupazzo aveva un'armatura al suo interno, ovvero un meccanismo fatto di perni che può muoversi secondo le esigenze espressive. Anche la celebre collina a spirale dove Jack muove i suoi passi e si innamora di Sally contiene un'armatura che può assumere altre forme e, in questo caso, allungarsi appianando il ricciolo che la contraddistingue. In tre anni vennero realizzati 110.000 fotogrammi. Vennero realizzati 227 pupazzi per tutti i personaggi che dovevano comparire nel film. E per rendere l'idea delle tantissime espressioni di Jack Skeleton, vennero modellate e realizzate circa 400 teste del protagonista. I set avevano delle botole, gli animatori potevano letteralmente entrare e uscire per far muovere i personaggi. Tra l'altro nel 2001 la Walt Disney Company prese in considerazione l'idea di un sequel, ma invece di usare la stop motion voleva usare la computer grafica. Tim Burton convince la Disney a rinunciare al progetto. Nel libro The Making Of si legge che la scena più difficile da girare è stata quella in cui Jack mette la mano sulla maniglia della porta della città del Natale, attraverso la quale gli spettatori possono vedere il suo riflesso. Con il movimento della mano di Jack che si muove letteralmente per aprire la porta. Tim Burton ha confessato che l'idea per il film gli è venuta in mente dopo aver visto togliere la merce di Halloween in un negozio per far posto a quella di Natale. L'unione di fantasmini e Babbo Natale con le renne ha scatenato la sua fantasia. Nel 1994 agli Oscar venne nominato per i migliori effetti speciali, ma vinse Jurassic Park. C'è da dire che la categoria miglior film d'animazione nacque solo nel 2002. Il primo Oscar venne dato a Shrek. Ma cosa rende speciale questo film oltre alla lavorazione artigianale, la colonna sonora? Se nella versione originale la voce di Jack appartiene a Danny Elfman, nel doppiaggio italiano lo interpreta il grande Renato Zero. Quello che dà al personaggio è una capacità di emozionarsi emozionarsi che gli spettatori percepiscono nella ricchezza di tonalità che Jack esprime quando canta. Quando arriva da noi il film è il dicembre del 94, un anno dopo che è uscito in America. È un film completamente nuovo, perché è Renato Zero a dare la voce non solo alla parte cantata di Jack, ma anche alla parte parlata. E il risultato è qualcosa di inimmaginabile. Perché il cantautore avvicina ancora di più allo spettatore una sofferenza e una crisi di identità che esprime nel canto e nella potenza della voce. Renato Zero non doppia solo il cantante del protagonista, come ci si può aspettare faccia giustamente un cantante, ma dà vita a Jack in toto, incarnando la sua voce anche nel parlato. Del resto l'istrionismo di Zero non è una novità. Il suo Jack è immensamente umano, colorato delle mille spaccettature caratteriali che lo contraddistinguono, e si fa carico di una disperazione che si percepisce sin dal primo a solo, che, come in tutti i musical, ha il compito di presentare il personaggio. Insomma, non c'è dubbio che The Nightmare Before Christmas sia uno dei film di Halloween e Natale più importanti della storia e che ci portiamo dietro con bellissimi ricordi, almeno personalmente. Per me è stato così. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se lo avete visto quando eravate più piccoli, se lo fate vedere ai vostri figli, e se lo rivedrete anche stasera per la notte di Halloween. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Jack e Azione, seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di film e serie TV. Al prossimo video!